L'Amarone della Valpolicella è uno dei grandi rossi classici della tradizione italiana, uno dei porta bandiera dell'eccellenza enologica del nostro paese nel mondo. L'Amarone Riserva Sergio Zenato è una raffinata interpretazione di questa denominazione. Le uve Corvina per l'80% e poi a saldo Rondinella, Oseleta e Croatina vengono lasciate in appassimento fino al mese di gennaio, in fruttai debitamente arieggiati. Segue la vinificazione è un periodo lunghissimo, fino a 4 anni di maturazione in grandi botti di rovere e poi ancora un anno di affinamento in bottiglia. Quando finalmente il vino raggiunge il nostro calice, si presenta di un bellissimo colore granato con qualche ricordo rubino luminoso. Il naso è un profluvio di frutta matura, mallo di noce, sensazione di cioccolato fondente, ciliegia sotto spirito, scatola da sigaro, liquirizia, cuoio. E poi ancora un'idea balsamica di eucalipto e una sensazione finale di cenere arsa. Il sorso è morbido, coinvolgente, abbraccia il cavorale con forza ma al tempo stesso con soave gentilezza. Lunga la persistenza gusto olfattiva, un vino che va servito in ampi calici a una temperatura non superiore ai 18 gradi. È un ottimo compagno di tutte le carni rosse succulente, brasati, selvaggina. Ma è anche un meraviglioso amico per tutti i momenti in cui abbiamo voglia di stappare una bottiglia e conversare insieme ai nostri amici più cari.